Ciao, sono Nicola Montuori, editore di Termoli Online, il portale di informazione locale che conta milioni di visite l'anno. Con la mia società Mediacom mi occupo da molti anni di marketing e comunicazione e le attività rivolte a commercianti ed imprenditori locali stanno prendendo sempre più piede. Per questo stiamo cercando dei consulenti vendita che ci supportino nella gestione dei contatti e nei colloqui di vendita dei servizi. Questa ricerca è rivolta a due consulenti vendita. Le figure ricercate dovranno occuparsi di contattare i clienti, fissare appuntamenti ed effettuare colloqui di vendita secondo un metodo consulenziale da noi fornito e che risulta molto apprezzato ed efficace. Se stai pensando al classico venditore porta a porta mandato all'arrembaggio a procurare contatti e fare una tentata vendita su clienti freddi, per fortuna non è di questo che stiamo parlando. Il consulente vendita potrà contare su una specifica formazione che gli permetterà di approcciare il cliente da prima distanza e solo dopo in presenza in modo da massimizzare la possibilità che l'appuntamento di vendita abbia esito positivo. La mia esperienza di 40 anni nel settore dei servizi mi porta a dire che la persona che stiamo cercando possieda determinate caratteristiche, disponibilità di tempo per gestire il ruolo al massimo delle proprie capacità, perseveranza intesa come capacità di non arrendersi di fronte ai no che talvolta fanno parte di questo mestiere, etica nella vendita perché il metodo che noi seguiamo non contempla la vendita ad ogni costo ma la vendita come conseguenza del valore e dei vantaggi che il cliente trae dai nostri servizi. Flessibilità, intesa come disponibilità agli spostamenti sul territorio locale e adattabilità agli orari di lavoro determinati dagli appuntamenti. Propensione alla formazione e all'applicazione di un metodo che può anche prevedere qualcosa di diverso rispetto alle conoscenze già in possesso del candidato relativo alla vendita. Attaccamento al ruolo perché questa è la caratteristica imprescindibile che contraddistingue ogni membro della nostra squadra. Non sono richieste particolari competenze per lo svolgimento del ruolo. È gradita ma non determinante l'esperienza nella vendita dei servizi. È richiesta la conoscenza del pc ma non necessariamente una conoscenza avanzata della rete internet e dei suoi strumenti. Offriamo formazione, possibilità di crescita personale ed economica, rimborso spese, provvigioni. Per candidarsi è necessario compilare il modulo che trovi cliccando in basso. Successivamente ai candidati verrà sottoposto un questionario per valutare l'aderenza del proprio profilo personale con il ruolo ricercato. Se pensi di essere la persona giusta non esitare e invia la tua candidatura. Un caro saluto da Nicola Montuori.